Non siamo un fattito, non siamo una casta, siamo cittadini di tutto e basta, ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale, vale puro. Per il secondo intervento. Per il secondo intervento, tra l'altro anche brevissimo, ma visto che comunque il consigliere Pugliese, diciamo, che nel suo intervento ha citato un po' delle criticità che evidenziavo nel mio, volevo innanzitutto rassicurare il consigliere Laura sul fatto che assolutamente non c'è da parte nostra una mancanza di attenzione rispetto al lavoro che viene svolto da questi, diciamo, istituti. Quello che sicuramente ci preoccupa è il fatto che, come dovrebbe anche, e mi pare che in alcuni emendamenti ho visto che viene anche richiesto di citarlo, che ci sia un'offerta che sia effettivamente equilibrata, ma questo non c'è assolutamente, non si può dire che c'è un'offerta equilibrata. E il fatto che quasi la totalità degli istituti siano comunque gestiti dal clero, non dico che sia una criticità in quanto tale, ma in quanto fatto che appunto non ci sia una pluralità, diciamo, ma che sia un po' standardizzata. E soprattutto diciamo che la criticità che noi vogliamo evidenziare è il fatto che le risorse, che comunque non sono poche, vengono destinate a questo tipo di convenzione, vengono comunque in qualche modo sottratte ad altre destinazioni, ad altre possibilità che si potrebbero aprire proprio per venire incontro a questa esigenza, che io credo che comunque sia dei cittadini, di avere maggiore offerta proprio di scuole pubbliche. Ecco, grazie, ho finito. Passiamo quindi alla trattazione degli emendamenti che sono pervenuti, e per i quali, rispetto ai quali, a tutti gli emendamenti pervenuti, è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole. Sì, sì, grazie Presidente. Vabbè, come la... Il senso dei nostri emendamenti l'ho espresso in discussione, l'ho messo anche nella premessa, ed è sempre quello di tentare di recuperare delle risorse da questa convenzione per portarle verso la scuola pubblica. Il primo emendamento che presentiamo riguarda la premessa al paragrafo dove si dice ritenuto pertanto di procedere l'approvazione della convenzione, modificare da settembre 2013 ad agosto 2016 con settembre 2013-agosto 2014. Le convenzioni di durata di un anno, questa di Monza non sarebbe la prima, ci sono anche altri comuni che fanno questo tipo di convenzione, nel nostro caso lo chiediamo perché è stata una nostra proposta, una proposta anche del Comitato Beni Comuni, quello di proporre anche per la città di Monza un referendum, proposto anche dall'associazione articolo 33 per far decidere ai cittadini se i comuni devono sovvenzionare le scuole private paritarie o meno. e quindi un termine di tre anni nel caso in cui ci fosse un referendum che noi ospichiamo e dovesse decretare che i soldi devono dare solamente la scuola pubblica non potrebbe essere messo immediatamente in pratica. Inoltre il periodo di un anno è anche un periodo di prova. e poi vedere negli anni successivi ogni volta la convenzione potrebbe essere anche ritarata. Ecco, finito la presentazione, grazie. All'articolo 8, la tabella A, chiediamo di abbassare il limite ISE a 30.000 euro. ISE quindi fino a 30.000 euro. Questo punto sempre nell'ottica di... Allora, noi abbiamo a Monza due scuole di infanzia pubblica che dovrebbero essere aperte ma mi sembra che il cantiere è aperto dal 2011 e ad oggi è ancora un cantiere appunto. La motivazione qual è? Fondamentalmente la motivazione è che non ci sono fondi. Ecco, cominciamo a recuperare questi fondi anche da questa convenzione. Cominciamo a fare quello che si dovrebbe fare. Quindi cominciare a portare i soldi dalla scuola privata alla scuola pubblica. Anche in virtù del fatto che ho sentito dire, anche in quest'aula, che ci sono preti che farebbero molto volentieri a meno di avere delle scuole per l'infanzia. Allora, aiutiamoli, agevoliamoli, gradualmente cominciamo a prendere un po' di soldi. Visto che non sappiamo dove prenderli, andiamo a prenderli da lì pian piano e li portiamo verso il pubblico. Grazie. Grazie. Assessore Montalbano, prego. Sì, vorrei motivare la scelta che si è fatta di tenere il limite ISEE a 45 mila euro e non a 30. È una scelta che è supportata da una serie di dati statistici che mi permetterò di darvi, proprio per dare maggiore chiarezza a questa scelta. Dunque, noi abbiamo un dato che ci dice che parlo del campione di famiglie che hanno i figli frequentanti le scuole paritarie, quindi di quel campione ristretto. Non parlo ovviamente di tutta la cittadinanza di Monza. Magari è sovrapponibile come dato, ma non abbiamo la certezza statistica e scientifica. Però, vede, tra i 30 e i 45 mila euro, noi abbiamo pensato a due questioni fondamentali. Una è che da 30 a 45 può costituire una sorta di cuscinetto sociale che permette anche alle famiglie di poter avere una maggiore tranquillità per quelle fasce comprese in quell'asse. Perché questo? Perché il pensiero che una famiglia che ha un ISEE di 29.900 e un'altra che ha un ISEE di 30.100. Si portino a casa questa differenza sostanziale e fondamentale di essere al di sotto o al di sopra di questa fascia mi sembra abbastanza rischioso. Questo ragionamento è supportato anche dal fatto che, sempre in riferimento agli dati statistici, noi abbiamo fra gli iscritti, fra i 2.321 iscritti di questo anno, dell'anno a venire, dell'anno 2013-2014, una suddivisione di questa natura. 1.228 hanno consegnato un ISEE inferiore a 45.000 euro, mentre 1.093 hanno consegnato un ISEE superiore a 45.000 euro o non hanno consegnato la documentazione. Voi sapete che quando la documentazione non viene presentata si passa automaticamente nella fascia massica. La riflessione che si è fatta è proprio questa. Siamo quasi a un 50%, per cui lo sforzo che si è fatto è quello di stabilire una soglia che possa davvero demarcare in maniera significativa chi ha di più e chi ha effettivamente di meno. Questa è la scelta che noi abbiamo fatto e che credo tuttora valida. In futuro eventualmente si potranno fare altri ragionamenti. Semplicemente per una brevissima replica, per dire al Consigliere Mutalbano, allora bisognava tenere conto anche dei redditi di 44.900 euro e 45.100 euro. Cioè, ho capito, però la soglia l'abbiamo portata a 45.000 euro fondamentalmente. Va bene, grazie. Comunque mettiamo i voti. Allora, l'articolo 9, al terzo paragrafo, modificare la frase il contributo base per gli alunni iscritti appartenenti a famiglie in possesso con il contributo base per gli alunni iscritti appartenenti a famiglie residenti nel comune di Monza e in possesso. Noi chiediamo di specificare nel comune di Monza proprio perché con la carenza di scuole di infanzia pubbliche spesso le famiglie monzesi hanno anche proprio difficoltà a portare i loro figli nelle vicinanze della loro abitazione. Per cui, cioè, riteniamo giusto visto anche il grosso contributo che il comune di Monza si sta prestando a dare a queste scuole riteniamo giusto che vengano privilegiati i cittadini monzesi. Quel 30% di criteri per la formazione di graduatorie già condiviso fra tutte le scuole contiene anche questo aspetto e cioè ha un punteggio maggiore il bambino residente nel comune di Monza rispetto al bambino che arriva da fuori. Se questo poi, se questo avventamento serve poi a mettere in evidenza il fatto che le scuole paritarie monzesi sono frequentate da un considerevole numero di alunni foresi allora la discussione diventa un po' più complicata nel senso che da una indagine che abbiamo fatto e i cui dati saranno totalmente disponibili fra pochi giorni quello che abbiamo potuto accertare è che il numero è considerevole si tratta di un numero superiore a 400 ma abbiamo potuto anche accertare che questi 400 arrivano da ben 81 comuni diversi e che evidentemente c'è anche un fenomeno particolare di cui non possiamo non tener conto il fatto che siano tanti i comuni da cui arrivano dipende quasi esclusivamente non voglio fare affermazioni apodittiche ma quasi esclusivamente dal fatto che le giovani coppie monzesi sposandosi vanno a vivere fuori Monza e anche a volte fuori dall'Abbrianza però rimangono sul territorio monzese i nonni, i parenti oppure gli stessi genitori poi lavorano nel comune di Monza per cui è un servizio che si offre a cittadini che comunque hanno una relazione continua e costante con il comune di Monza La votazione si è chiusa con 28 votanti 6 favorevoli 17 contrari 5 astenuti L'articolo 9 abrogare il paragrafo il contributo base diminuito di 1,50 euro per gli alunni iscritti appartenenti a famiglie in possesso di un valore ISE superiore a 45.000 euro ed eliminare pertanto i contributi per le famiglie con ISE superiore a 45.000 euro modificando l'articolato di conseguenza In sostanza chiediamo di non dare nessun contributo alle famiglie con un ISE superiore a 45.000 euro Sì, grazie Presidentessa Allora, i 5 e i 6 vanno nella stessa direzione dei precedenti che era ovviamente visto quello che è successo con il 2, il 3 e il 4 ritengo questo punto di ritirare per non fare perdere del tempo all'aula Ovviamente i nostri emendamenti sicuramente saranno etichettati catalogati come populisti però evidentemente noi abbiamo cercato di dare voce a una parte di popolo proprio che ritiene che considerare un reddito di 45.000 euro un reddito che necessita di un contributo reddito ISE infatti è proprio per quello reddito ISE 45.000 euro è scandaloso io so che in quest'aula e comunque Monza è una città che sicuramente ha dei redditi alti rispetto alla media nazionale e forse anche alla media regionale però sicuramente ci sono delle persone che fanno molta difficoltà vabbè adesso al di là di questo chiudo nella speranza l'articolo 7 lo vorrei portare in votazione chiudo nella speranza di comunque che non in questa convenzione ma perlomeno nelle prossime azioni di governo dell'amministrazione rispetto alla scuola pubblica si faccia qualcosa di più concreto per dare proprio un segnale a quella parte di cittadinanza che fa veramente fatica a portare i propri bambini sia anche nella scuola pubblica a volte per il costo che ha quindi è da tenere in forte considerazione grazie quindi scusi se ho ben capito lei ritira gli emendamenti numero 5 e 6 per cui passa ad illustrare l'emendamento numero 7 sì l'articolo 14 comma i cambiare l'articolato in questo modo il 14 allora il comma i accogliere indistintamente i bambini in età prescolare di ambo i sessi senza discriminazioni razziali o religiose secondo le norme vigenti modificarlo in accogliere indistintamente i bambini di entrambi i sessi senza distinzione di razza lingua religione condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il progetto educativo è diciamo una un'esplicitazione in più che va comunque nel senso di quel comma grazie consigliera Morasso no volevo solo dire a proposito di questo emendamento suggerire al consigliere Novi sarà possibile di modificare la parola razza a questo punto non mi sembra adeguata con la parola etnia le razze la razza è la razza umana e non mi piace vederlo scritto in una convenzione scusate possiamo mantenere il silenzio il termine che c'era già all'interno della convenzione che era senza distinzione raziale lingua religione stona un po' però oppure senza distinzione di etnia come preferisce Laura a questo punto non so senza distinzione raziale se se così piace consigliera Morata si trovo che fosse una svista anche nella nella convenzione se c'è scritto raziale io propongo comunque di eliminare questo termine di sostituirlo con etnia che è il termine corretto se posso grazie Assessore Montalbano prego sì io non vorrei commettere una gaffa ma mi sembra che la nostra Costituzione faccia proprio riferimento ai criteri razziali a discriminazione razziale no però voglio dire se c'è un'esigenza lessicale di modernità per carità io sono aperto anche a queste a queste novità per cui non so se un ulteriore chiarimento consigliere Novi non vorrei che si cerchiamo di togliere di eliminare equivoci da un lato e ne aggiungiamo dall'altro e le famiglie solitamente quando iscrivono un bambino a una scuola è proprio perché condividono quel progetto formativo non possiamo chiedergli di sottoscriverlo di firmarlo con un'autentica una firma autentica per aggiungere un elemento vorrei che ci incartassimo proprio alla fine su questo emendamento su questa parte dell'emendamento però a volte subentrano anche delle decisioni dei fattori nella decisione su quale scuola a quale scuola iscrivere il proprio figlio che magari non dipendono tanto dal progetto educativo ma proprio da banali questioni logistiche o la vicinanza per esempio o la posizione della scuola nel percorso tra casa e il lavoro banalmente quindi in questo senso l'emendamento cerca anche di creare un come dire un maggiore rapporto fra il progetto educativo e la scuola tutto qui scusate fra il progetto educativo e le famiglie quindi è sottolineare l'esistenza anche di un progetto educativo che magari a volte per le modalità per la frenesia della vita moderna vengono tralasciate a favore di altri aspetti che magari diventano predominanti nelle decisioni delle famiglie grazie grazie Presidentessa per esprimere la dichiarazione di voto il nostro voto sarà contrario prima di spiegare perché il nostro voto sarà contrario vorrei però sgombrare il campo da qualsiasi insinuazione di retropensieri o chissà quali idee sulla scuola privata che non c'è nessuna retroidea quello che ho detto semplicemente mi sembra che sia stato abbastanza chiaro quello che dice la Costituzione enti e privati hanno il diritto di istituire scuole di istituti educazione senza oneri per lo Stato e non mi sembra che sia questo il caso poi proprio nella discussione sul perché voto ero contrario io non sono un esperto di convenzioni e non sono neanche un esperto di scuole ho avuto grosse difficoltà a scrivere quegli emendamenti insieme ad altre persone che però erano una richiesta che veniva da un'ampia fascia di cittadinanza abbiamo difficoltà anche a votare contraria a questa convenzione perché ci rendiamo conto che la convenzione ha lo scopo di andare a sopperire andare ad aiutare andare a fare quello che serve cioè dare un'istruzione dare un luogo per l'infanzia però è proprio sono in contrasto queste due cose perché si sta facendo la convenzione per dare per rispettare un principio costituzionale e si va contro quel principio costituzionale allo stesso tempo questa è la mia idea la mia interpretazione come se ne esce se ne esce con delle scelte coraggiose se ne esce con e questa amministrazione già le ha fatte in questa convenzione però noi riteniamo che si poteva fare di più noi voteremo contrari per questi motivi e come ho detto prima insomma speriamo che nelle successive nella successiva convenzione ma anche nei successivi indirizzi dell'amministrazione e atti dell'amministrazione rispetto a questo principio costituzionale si faccia qualcosa di più grazie non siamo un partito non siamo una casta siamo un cittadino il punto è basta ognuno vale uno ognuno vale uno ognuno vale uno vale uno